Ciao, sono Gabriella Amato, sono laureata in Biotecnologie per la Salute presso l'Università di Napoli Federico II. Il corso Biomedical Sciences ha subito suscitato in me interesse sia per il contenuto dei corsi, sia per il fatto che i corsi fossero erogati totalmente in inglese, che dal mio punto di vista è un gran valore aggiunto. Un altro punto fondamentale, più personale, è che dia l'opportunità di effettuare un tirocino curricolare in Svizzera, che è sempre stato uno dei miei obiettivi. In generale i professori sono molto disponibili e aperti a qualsiasi tipo di confronto e ad oggi posso dire di essere pienamente soddisfatta della mia scelta. Ciao, sono Cristina e mi sono laureata in Tecniche di Laboratorio Biomedico presso l'Università dell'Insubria. Ho scelto questo corso di laurea magistrale perché volevo approfondire le scienze biomediche non solo dal punto di vista teorico ma anche dal punto di vista pratico. Infatti sono previste attività di laboratorio presso le strutture di busto arsizio dove vengono anche tenute le lezioni frontali e i professori sono molto disponibili a ospitarci presso i loro laboratori di ricerca per farci vedere dal punto di vista pratico quello che viene poi affrontato nelle lezioni frontali. Ciao a tutti, io sono Riccardo e mi sono laureato in Biotecnologie qui all'Insubria e ho scelto di iscrivermi al corso di Biomedical Sciences. Uno dei motivi per cui ho scelto questo corso è l'ampia disponibilità di tirocini che siano interni in cui i professori sono molto disponibili ad ospitarvi nei loro laboratori ma anche i tirocini esterni che possono spaziare da Milano a strutture anche in Svizzera. Ciao, sono Erika Perico, sono al primo anno di Biomedical Science vengo da una triennale di tecniche di laboratorio biomedico e ho scelto questo corso di laurea magistrale perché era impostato per essere completamente inglese a differenza di altri su cui mi ero informata quindi qua facciamo lezioni inglese come anche gli esami e con professori molto preparati da questo punto di vista in più ero molto interessata al curriculum di neuroscienze che adesso sto effettivamente frequentando. Ciao ragazzi, mi chiamo Elisa e sono laureata in Scienze e Tecnologie Biologiche e attualmente sto frequentando il corso di laurea in Biomedical Sciences con indirizzo Double Degree. Questo corso di laurea mi ha permesso di realizzare uno dei miei più grandi sogni ovvero quello di studiare all'estero in un ambiente giovane e internazionale con un progetto Erasmus e i corsi che vengono proposti sia in Italia che in Germania sono sempre, quasi sempre affiancati da laboratori che mi hanno permesso di ampliare notevolmente la mia formazione e le mie capacità in laboratorio e assolutamente lo rifarei centomila volte per cui pensateci bene perché è un'occasione da cogliere al volo. Buongiorno a tutti, noi siamo Elisa e Valere, scritta al secondo anno di laurea magistrale in Biomedical Science e ad oggi stiamo intraprendendo il tirocinio curriculare presso lo Yordi Building Zona. Il nostro corso di laurea ci ha permesso di poter ottenere le basi per poter lavorare in un laboratorio di ricerca ed essendo anche in lingua inglese questo ci ha permesso di poter comunicare con il mondo scientifico. Per quanto riguarda la lingua inglese non c'è da aver paura in quanto i professori sono molto disponibili a rispiegare l'argomento e quindi a renderlo più facile. Vi aspettiamo di conseguenza all'open day del nostro corso di laurea di Biomedical Science. Ciao a tutti, mi chiamo Luca e a ottobre mi sono laureato in Biomedical Sciences presso l'Università degli Studi dell'Insubria e successivamente mi sono trasferito qui a Basilea per iniziare un dottorato in Neurobiologia. Quello che posso dirvi con certezza è che rifarei assolutamente la stessa scelta per quanto riguarda il percorso magistrale per diversi motivi. Il primo è che sicuramente mi ha dato delle basi solide per poi poter iniziare questa nuova avventura qui a Basilea. Un altro motivo è la lingua perché penso che studiare in inglese al giorno d'oggi e soprattutto nel nostro campo dia un quid in più e inoltre un altro motivo è sicuramente la gran voglia di miglioramento che ho visto nel corso di laurea perché è un corso di laurea molto giovane e quello che ho percepito è una grande apertura verso gli studenti e quindi questa gran voglia di miglioramento che non penso sia da sottovalutare e non penso sia facile da trovare in tutti i corsi di laurea. Quindi io non posso fare altro che augurarvi buona fortuna per la vostra scelta e per il vostro futuro. Ciao a tutti!